Salve a tutti! Oggi Alatra TV è in diretta dal Synergy Global Forum 2019. Chi si svolge a San Pietroburgo? Salve Arnold! Benvenuto in Russia, a San Pietroburgo. Vorrei fare una domanda da parte di Alatra TV internazionale, con riferimento al progetto Società Ultima Opportunità. Che cosa unisce tutte le persone sulla Terra, indipendentemente dalla loro nazionalità, dalla loro appartenenza religiosa o politica o dagli status sociali? Che cosa unisce tutti noi? Penso che lo sport abbia sempre unito le persone, perché quando vai alle Olimpiadi, ai campionati mondiali, ai tornei sportivi, non vedrai mai persone che litigano o discutono. Tutti comunicano bene e si aiutano a vicenda. Se qualcuno cade, gli altri lo aiutano ad alzarsi e a correre fino al traguardo. Quindi penso che lo sport sia sempre stato un ottimo mezzo per unire le persone, per quanto ho avuto modo di vedere. Interessante che lei mi abbia fatto questa domanda, perché la California è un posto incredibile. E lo dico non solo perché ho vissuto lì, o ne sono stato governatore. Quando ero governatore, ho scoperto che le religioni rappresentate in quello Stato sono più di 140. Ci sono nazionalità diverse, ma tutti vivono insieme. Nessuno è ostile. Tutte le religioni, tutte le nazionalità e le culture più disparte che si possono immaginare. Credo che in generale le persone siano pacifiche, per natura. Ma i politici e talvolta, le religioni, ci dividono intenzionalmente. Dobbiamo fare attenzione a questo, ma l'esempio della California dimostra che possiamo vivere fianco a fianco, ad essere amici. Possiamo andare d'accordo anche avendo opinioni diverse sulla politica o sulla religione. Possiamo avere il colore della pelle diverso o qualsiasi altra cosa, ma possiamo mantenere buone relazioni e vivere insieme in armonia. Vorrei porle un'altra domanda. In quale società le piacerebbe vivere? In una società pacifica? O piena di guerre e conflitti? Naturalmente tutti vogliono vivere in una società pacifica.